L'interfaccia di Rino Per eseguire nel miglior modo le T-Spline Apriamo nuovamente il pannello delle opzioni di Rino Andiamo su T-Spline Espandiamo il menu Vista e poi Modalità di visualizzazione Clicchiamo su Vireframe La prima cosa che faremo è diminuire lo spessore dei bordi Due pixel sono troppo spessi Sempre nella modalità di visualizzazione clicchiamo su Ombreggiata Spostiamoci su Uso dei colori e materiali Clicchiamo su Personalizza Nel pannello che si è aperto abbassiamo Intensità Lucentezza Altrimenti il modello apparirà troppo luminoso mentre si modella Facciamo la stessa operazione con finitura lucida Disabilitiamo Ambiente L'Environ e Map non ci servono Ora andiamo su Impostazioni facce posteriori Apriamo il menu a tendina e selezioniamo Materiale personalizzato per tutte le facce posteriori Clicchiamo su Personalizza Nel pannello che si apre spuntiamo l'opzione Sostituisci colore oggetto Clicchiamo sulla casella del colore e nella paletta dei colori selezioniamo il colore verde acqua In questo modo, su una superficie su cui lavoriamo, distingueremo facilmente qual è la parte posteriore del modello Anche qui diminuiamo lo spessore dei bordi Infine, selezioniamo Semi Trasparente Eliminiamo la lucentezza Aumentiamo la trasparenza per vedere meglio l'oggetto Scorriamo le voci verso il basso E diminuiamo anche qui il valore dello spessore dei bordi Abbiamo completato così la configurazione della nostra interfaccia di Rino Nel prossimo video configureremo il menu e le opzioni per le T-Spline Aumentiamo la trasparenza per vedere meglio l'oggetto di Rino